Buongiorno, sono Alberto Pellero, direttore strategia marketing di Cucca Roboter Italia, multinazionale operante nel settore dell'automazione industriale. Parteciperemo agli SPS Digital Days in due convegni, nel convegno di robotica e meccatronica presentando la nostra gamma di robotica mobile e di AGV e nel convegno di automazione avanzata parlando di Industrial Internet of Things applicata ai nostri robot. Avremo anche la partecipazione a un workshop sul tema di tutta l'offerta di Cucca dalla robotica all'intralogistica di Swisslog.